Pochi giorni dalla presentazione della nuova stagione dell'ACS, il circuito neogestore del teatro. La Riccitelli presenta alla sua di stagione un'anteprima inedita ma dovuta proprio alle mutate condizioni del teatro in città. Sì, anticipiamo la stagione per i noti eventi degli ultimi periodi in città. Quindi lo facciamo comunque con molta commissione, presentando ancora una volta una importante e prestigiosa stagione di prosa. Il 13 aprile il nostro direttore artistico Ugo Bagliai sarà qui con noi a Teramo per presentare la prossima stagione che, ripeto e ribadisco, si terrà naturalmente al teatro comunale. La guerra del teatro è anche guerra di nomi e di attori e la stagione della Riccitelli si annuncia molto interessante. Sì, quest'anno per la prima volta c'è un'anteprima per così dire di stagione che oggi andiamo a presentare. Ci saranno nella prossima stagione importanti produzioni con attori del calibro di Stefano Accorsi, Gabriele Lavia, Lorella Cuccarini, Serena Utieri e tanti altri che naturalmente andremo a presentare il prossimo 13 aprile. Per le prelazioni? Per le prelazioni dal 19 aprile, naturalmente, questo lo annunceremo nella prossima conferenza stampa, il calendario delle prelazioni e degli acquisti e degli abbonamenti sarà un po' variato e immagino anticipato.